Musica Io sono Luca Masciola e sono il vicepresidente di R.B.A.N. R.B.A.N. è fierissima di essere qui a Rieti a collaborare con questa iniziativa magnifica per due motivi essenziali. Il primo, noi siamo radicati nel territorio naziale da qua che è cominciata la storia di questa azienda che ha quasi ormai 50 anni, le avrà l'anno prossimo. E quindi essere nella comunità vuol dire anche investire sulla comunità. Il secondo perché rappresenta uno di quei momenti in cui l'azienda si distrae dal suo quotidiano ed entra in un tessuto di relazioni culturali che le danno pregio, le danno onore, le danno spazio ed espiro. E quindi è in questo che sta la cifra distintiva della nostra collaborazione con il Reate Festival 2017. Grazie a tutti.